Oggi vedremo cosa c'è all'interno del kit Regenerate e come si utilizza. Al suo interno troviamo il dentifricio, il colluttorio, lo spazzolino, il siero avanzato e le mascherine preimpostate. Ora vediamo come avviene l'applicazione del siero. Per prima cosa andrò a mettere il siero all'interno delle mascherine. Ricordo che questo procedimento può essere fatto anche con le mascherine Invisalign e deve essere eseguito dopo aver lavato i denti alla sera. Poi andiamo a mettere il gel attivatore. Infine mischiamo il tutto con il bastoncino trovato all'interno del porta mascherine. Andremo a farlo poi anche con l'altra mascherina e lo applicheremo in bocca per 3 minuti, per 3 giorni consecutivi, una volta al mese. Grazie. Grazie.